Metto quello che mi piace, taglio come voglio i capelli Quindi non hai qualcuno dietro che ti dice fai questo, fai quello, fai quell'altro No, sin da piccola mi piaceva essere diversa Hai degli occhi bellissimi, veramente, molto molto belli Grazie Allora, l'ultima mail Ciao Ale, hai seguito la vittoria di Marco Carta a Sanremo Quale credi sia il segreto del suo successo? Parteciperesti anche tu al festival? Alche domande, Valeriana 90 Certo che partecipi, rispondo io Eh certo, se mi vogliono vado ovviamente Non lo so, forse anche lui il fatto che comunque è semplice E poi c'è questo timbro che comunque rende Non guasta, che piace, che piace Abbiamo visto che rende Guarda, Marco Carta è venuto qui tante volte da noi È un nostro amico, un amico di TRL È un ragazzo veramente d'oro e semplice E non si è montato la testa Questo bisogna dirlo Allora, Alessandra Amoroso rimane ancora qui con noi Ricordiamo ancora una volta che Se le ragazze vogliono andare il 10 aprile È uscito il tuo album a comprare stupida Sì, oggi ci sarà la Mondadori Via Vittorio Emanuele Bene Dopo parlerai con il mio collega Carlo Pastore Adesso lanciamo i gemelli diversi alla posizione numero 4 Per ogni madre ancora troppo immatura Che ha avuto troppa paura Per ogni vita finita in un sacco della spazzatura Per chi ha visto un genitore andare via E per chi il proprio padre non sa nemmeno chi smira Per chi Cresce ammazzato e date da un alcolizzato Per il figlio che ha scappato e per quello che l'ha ammazzato Per chi ha sentito sulla gola un coltello Per le vergini vendute come carne da macello Per il padre schiacciato dal suo lavoro Che per dare il pane ai figli invecchi e lontano da loro Per ogni madre che si attacca alla bottiglia Per ogni soldato mai ritornato alla famiglia Per ogni cuore fatto a pezzi da una stronza Per ogni donna che è un uomo che non l'ascolta Per la gente mesta che però si sente sempre dire no Ce l'hai un attimo per me Perché c'è troppo bisogno di aiuto Allora siamo i gemelli diversi volevamo ringraziarvi per aver votato il nostro video A TRL, grazie Per il suo futuro, perché al di là del muro Perché ha umiliato il suo padrone e grida vaffanculo Perché ogni verità d'aggiuta venga conosciuta Per l'aria suorca ogni foresta che viene abbattuta Per ogni nonno come il mio che ha disarzato il duce Perché ogni giorno prega Dio di avere un po' di pace Per ogni bacio non dato, per ogni amore trovato Per il barbone affamato morto in un prato Per quello che si è salvato grazie ad un euro donato Per l'uomo che era salvato il volontariato Per chi non se ne frega Ti imploro che ti frega Sogni ribelle e non giusto che non si piega Per chi è sul baratro però Guarda in basso e dice no Ce l'hai un attimo per me Perché c'è troppo bisogno di aiuto Ti aiuto Alessandra siamo sul nostro balcone Tra l'altro guarda chi c'è là No fantastico Carina questa cosa Senti io devo correggermi perché io con i metalli nobili non ci ho mai capito niente Praticamente sono abituato alle storie quelle di cartone E quindi tu in prevendita non hai fatto disco di platino Bensì hai fatto disco d'oro subito 35.000 copie così È incredibile no? Che la gente comunque voglia comprare il tuo disco ancora prima che esca Sì infatti è stata una cosa assurda Quando l'ho letto sul giornale ho detto no non è possibile Troppo bello Quando gli autori hanno pensato di scrivere una canzone per te Tu magari hai dato loro degli input Ti sei sentita rappresentata? No 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 Il bello è che comunque sono state scelte Non le ho scelte io ma mi rappresentano tantissimo e sono felicissima Qual è quella che ti piace di più se possiamo dirlo? Immobile 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 Vabbè stupida è lì Immobile è stata la prima canzone del primo cd che ho fatto Shalla Con tutti gli altri ragazzi Ed è il primo alla quale ho avuto la standing ovation Così Quindi subito Facciamo fare una standing ovation qua sotto Perché meritano loro anche la standing ovation Che piove Guarda piove Allora ho trovato il microfono se no ti Eh sì se no sparava di brutto Senti ti facciamo firmare il disco visto che è il disco d'oro Allora questa cosa ovviamente non la rivendiamo su ebay ma ce la teniamo per noi Ce la fai? No non ce la faccio Una mano? Una mano Ora faccio ti il microfono Perché mi sono fatto male al pollice quindi Ma perché c'è ancora il bollino si ha Ecco perché vedi Aspetta eh qua Vai con le unghie tu che ce le hai Prego Perché intanto volevo chiederti un'altra cosa Per caso li senti ancora i tuoi insegnanti di amici? Adesso che comunque stai facendo anche una carriera diciamo solista Li senti ancora i tuoi insegnanti? Hai ancora un rapporto? Chi fra loro ti dà più una mano? Jürman Lo cio Jürman Ma li senti quotidianamente? Con mi sento ho appena sentito il maestro Pino Perris Da me è battezzato Meshupinu Meshupinu In dialetto le cese E sì con lo cio Jürman mi sento spesso Senti quindi dopo vai alle messaggerie vero? Sì E incontri fan si canti qualcosina? Eh sì A che ora? Alle 5 C'è la presentazione qui del CD Alla Mondadori Via Vittorio Emanuele Via Vittorio Emanuele Qui vicino quindi Tutta la gente qua sotto può andare qua sotto Sì magari si ripara un attimo Eh sì così vengono al calduccio Grazie mille Alessandra Grazie a te È stato un piacere alla prossima Break Ci vediamo fra pochissimo Ciao io sono Ashley Ho 13 anni e sono molto testarda Molto testarda e non sopporto che gli altri mi dicano che cosa devo fare Sono molto legata a mia sorella Soprattutto da quando mi ha E farò qualsiasi cosa per aiutarla La vita segreta di una teenager americana Da mercoledì 22 aprile alle 9 di sera su MTV Partecipa alla Wacos Competition Vai sul sito MTV.it e crea il suo documento d'identità Mettici un sacco di fantasia e irriverenza E vinci due giorni di paddock al MotoGP di San Marino Insieme a un amico Ehi sono arrivate le nuove suonerie Le id del momento Lo so basta inviare un sms al 48 470 Con 20 per Tu sarai la forza 22 per Meraviglioso E 24 per Fammi immaginare E 28 per Sincerità Ti abbono a Music Live Partecipi al concorso E puoi vincere un Nintendo Wii a settimana Che aspetti? 48 470 E scopri se hai vinto Di questa Marco, Lorenzo o Luca? Che indecisione! È proprio difficile scegliere Non rimanere nel dubbio Invia un sms con scritto love al 48278 Ti abboni e con il nuovo Love Test scopri subito la compatibilità tra te e la persona dei tuoi sogni Invia un sms con scritto love al 48278 E trovi l'amore! Per uno sfizio lo spande Piate la focaccia e la lasciate là Piate il formaggio e lo lasciate là Poi piate la sciarabba e andate da McDonald's Scegliete Sociaro il nuovo piccolo piacere con pan focaccia e rosmarino Una delizia per il palato Passa MTV Mobile Mandi sms a 6 centesimi verso i numeri di tutti gli operatori E le chiami a 16 centesimi al minuto Senza scatto alla risposta MTV Mobile in tutti i punti vendita team Abbonati a 09 e scegli il tuo regalo tra gli ultimi successi della disco music Per avere sul telefonino Shine On Invia 1X a 48409 Per Infiniti 2008 Invia 2X per Ibiza Invia 3X a 48409 Solo musica originale Scegli il tuo successo preferito Invia 1X per Shine On 2X per Infiniti 2008 3X per Ibiza 48409 Young Dynamic Original Comfortable Doha Denim Industry www.doha.it Rinfresca la tua mente con qualcosa di nuovo Ascolta MTV Push